Buonasera, benvenuti al nostro appuntamento con la voce delle istituzioni. Quest'oggi abbiamo l'opportunità di parlare di Falcade con il sindaco Costa. Buonasera. Buonasera, buonasera a Telebelluno. Questo è un periodo sicuramente complesso per i comuni, c'è l'emergenza Covid che si fa sentire anche però sotto il punto di vista economico anche per i bilanci del comune. Succede anche da voi? Purtroppo sì, purtroppo l'impatto come oramai abbiamo imparato a conoscere tutti quanti, l'impatto è non soltanto dal punto di vista della salute delle persone con risvolti anche drammatici, ma anche dal punto di vista sociale, nei comportamenti e nella vita, ma lo stiamo proprio provando anche dal punto di vista economico anche per quanto riguarda gli enti. Non tocco l'argomento delle singole persone, dei soggetti privati, ma per quanto riguarda anche gli enti pubblici, come Comune di Falcade pochi giorni fa siamo andati in approvazione del bilancio di previsione per il 2021 e l'influenza del Covid-19 si è fatta sentire tutta perché il bilancio è veramente ridotto all'osso, perché a causa di una serie di problematiche in parte anche legate al Covid purtroppo il bilancio ha veramente dei contenuti piuttosto ristretti. Stiamo comunque vivendo una situazione tutti che è in divenire quasi giorno per giorno, quindi la speranza davvero è quella che nei prossimi mesi, nelle prossime settimane tra le misure che vengono adottate e la campagna di vaccinazioni che speriamo che possa avere veramente un impulso importante, le cose possono migliorare e quindi si riesca di nuovo a riprendere il respiro e questo è l'augurio che faccio anche a tutti i cittadini e a tutte le persone che vivono nella nostra comunità e in generale nel nostro paese. Per quanto riguarda il Comune ci sono molti progetti in ballo naturalmente anche perché questo è l'ultimo anno intero di programmazione per questa finestra amministrativa. Sì, di fatto entro nel mio ultimo anno del secondo mandato perché poi a primavera 2022 ci sarà il rinnovo dell'amministrazione comunale quindi la mia intenzione è quella di cercare di sviluppare, portare al termine la maggior parte dei progetti che ci sono in gioco e quindi stiamo cercando veramente di dare efficacia, abbiamo avuto diversi intoppi su alcune progettualità e mi auguro veramente adesso siamo ripartiti con un certo slancio su più di un settore quindi spero che possiamo arrivare a conclusione in tempi anche brevi. Posso dire che abbiamo avuto un problema e ce l'abbiamo tuttora piuttosto importante e è per me l'occasione anche questa di chiarire un po' con i miei cittadini qual è la situazione è da tempo che abbiamo il progetto della riqualificazione e ristrutturazione completa del bar, del locale che c'è al Parco Giochi di Falcade devo dire che il Comune di Falcade ha fatto le sue cose per bene come sempre e parlo soprattutto degli uffici non per lodare l'amministrazione, parlo proprio dell'iter che è stato seguito correttamente come sempre la gara d'appalto ha visto l'assegnazione a una ditta veronese che però praticamente è impredicato di liquidazione il fatto è che questa notizia è arrivata proprio a una settimana dalla firma del contratto più di un anno fa e da allora complice anche Covid-19 e qua torniamo alla domanda di prima complice anche Covid-19 purtroppo i lavori non sono mai partiti perché stiamo aspettando una sentenza che dica se questa impresa è in grado di poter proseguire oppure no quindi siamo veramente in balia in attesa di una sentenza giuridica che dica se possiamo proseguire con questa ditta oppure se dobbiamo affidarci alla seconda classificata oppure se dobbiamo rifare il bando purtroppo ci siamo informati più volte con gli uffici legali e non è possibile percorrere altre strade per cui abbiamo una situazione piuttosto complessa lì fortunatamente su altri settori e su altri interventi che avevamo programmato c'è un po' più di entusiasmo perché i lavori del campo di calcio che prevedono la riqualificazione del campo proprio con misure regolamentari e la realizzazione degli spogliatoi con la primavera dovrebbe arrivare al termine, a conclusione quindi entro l'anno in cui durante l'estate il campo sarà a riposo per permettere al manto erboso di spuntare e di rafforzarsi entro l'autunno acquisteremo anche gli aridi interni quindi credo che per l'estate 2022 il campo potrà essere operativo siamo riusciti non senza difficoltà ad appaltare i lavori per invece il parco giochi di caviola e quindi appena sarà possibile, adesso c'è ancora un metro di neve in paese quindi appena la primavera ce lo permetterà avvieremo i lavori quindi si rifarà il campo da tennis in terra rossa più tutta un'altra serie di installazioni e di sistemazioni dell'area del parco giochi così come finalmente a primavera partiranno perché sono stati appaltati anche qua due su quattro dei lavori ma il cronoprogramma prevede proprio inizialmente questi due lavori di ristrutturazione della malga Bos Brusà e della malga Valle Sbass per cui in primavera contiamo di vedere questi interventi cominciare e spero alcuni concludersi anche entro l'autunno nel frattempo dovrebbe proseguire un nuovo stralcio di lavori per quanto riguarda i marciapiedi comunali e appena riusciremo a fare il punto della situazione con Open Fiber per quanto riguarda la stesura della fibra ottica programmeremo anche l'attività di rifacimento degli asfalti che purtroppo è un po' pendente da tempo Ma lì i lavori come stanno procedendo? Vanno avanti? Siete coperti? Allora i lavori purtroppo stanno andando avanti da due anni cioè noi abbiamo avuto gli operai di Open Fiber da due estati che lavorano sul nostro territorio e i lavori non sono ancora conclusi per cui anche l'estate 2021 vedrà il proseguire di lavori Devo dire la verità che siamo piuttosto critici perché certe cose, insomma a nostro modo di vedere parlo come amministrazione, non sono state fatte in maniera corretta e quindi è il caso che si faccia il punto della situazione in maniera un po' seria e decisa Colgo anche l'occasione a proposito di Open Fiber per dare una risposta a alcuni cittadini che hanno fatto delle petizioni di raccolta firme perché segnalano che la fibra non raggiungerà tutte le frazioni del comune Allora vorrei chiarire che intanto l'iniziativa non è del comune di Falcade ma il progetto della fibra ottica nelle case dei cittadini è un progetto del governo di diversi anni fa che è legato a Open Fiber in tutta Italia per cui Open Fiber nasce proprio con questo obiettivo ma ci sono dei parametri per cui Open Fiber ha l'impegno di raggiungere una certa percentuale di abitazioni e di abitanti nel territorio di ciascun comune quindi è comunque l'obiettivo di Open Fiber non è una scelta discriminatoria del comune se e dove farà arrivare la fibra o meno detto questo ciò non vuol dire che non abbiamo intenzione di aiutare o di cercare di portare un servizio molto importante là dove non è stato previsto che arrivi certamente però il comune in qualche modo dovrà intervenire economicamente perché non è nei piani di quello che è stato progettato siccome nelle settimane scorse ho ricevuto delle richieste di attivazione in questo senso come amministrazione comunale però si intravede in queste richieste sembra quasi che ci sia il comune che non ha voluto fare questa cosa ci tengo a chiarire che la scelta progettuale non è del comune di Falcade ma è di Open Fiber che appunto ha questa programmazione vedremo che cosa è possibile fare comunque risponderò anche in forma scritta a coloro che hanno inviato la petizione perché abbiano chiara la questione Ma tra le zone che rischiano di rimanere fuori ci sono anche zone in cui ci sono attività? In realtà a parte il fatto che al giorno d'oggi la connettività e lo stiamo scoprendo in quest'ultimo anno in particolare la connettività è fondamentale per cui al di là del fatto che ci siano attività più o meno grandi è importante anche per chiunque che ci sia in segnale a casa direttamente in casa diciamo che le frazioni che sono rimaste fuori da questa programmazione in particolare sono Tabbia Dondival e Valt che per la posizione che hanno non sono così semplici da raggiungere quindi erano state diciamo escluse dal piano di Open Fiber vedremo come e se sarà possibile riuscire a collegarle in qualche modo Ecco veniamo da un inverno particolarmente nevoso grande beffa perché gli impianti di sci sono praticamente rimasti fermi è anche vero che però Falcada è una bella tradizione di fondo Il mio è un sorriso ma veramente è un sorriso amaro e il mio pensiero va a tutte le persone che hanno un'attività un lavoro legato con il mondo della neve per cui dagli impiantisti ai rifugisti ai maestri di sci a tutti coloro che agli stagionali a tutti coloro che hanno un'attività legata al turismo invernale alle piste da sci veramente un pensiero intanto di solidarietà e poi dal punto di vista amministrativo un impegno a ricordare e a spingere perché ci siano aiuti e ristori perché queste categorie non hanno potuto cioè di fatto non hanno lavorato in un periodo in cui potevano avere veramente il lavoro che solitamente è assicurato e che quest'anno giustamente con l'abbondanza di neve che c'è stata nei tempi anche giusti sarebbe stata veramente una grande stagione non vado a sindacale sui perché e sui per come non si è potuta aprire normalmente la stagione però Falcade ha visto dei grandi numeri comunque sulla piana di Falcade perché lo Ciclè Valbiois che ha in gestione il centrofondo di Falcade e ne sta facendo una gestione veramente forte, veramente capace, valida ha avuto una frequentazione importante per cui la neve ha aiutato comunque l'economia del paese e le ha dato una boccata di ossigeno in qualche modo anche se è tutto da vedere perché la situazione non è per niente facile anche questo, purtroppo, questo continuo aprire e chiudere non è stato per niente d'aiuto e ha cresciuto un po' la sfiducia nelle persone ha creato delle difficoltà notevoli è vero che qualcuno in qualche modo ha potuto lavorare ma la maggior parte ha avuto delle difficoltà veramente, veramente, veramente grandi per cui l'attenzione ormai è tutta riposta nei confronti di interventi economici di aiuto per cercare di dare delle garanzie a queste persone che hanno visto una stagione in cui normalmente il bilancio anche familiare è fatto per tre quarti è stato un anno senza lavoro anche per cui mi auguro che ci siano delle attenzioni particolari per quanto riguarda molte di queste categorie ecco, la neve quest'anno appunto è stata abbondante una benedizione quando va nei posti giusti però poi sulle strade bisogna neanche togliere la neve sì impegnativo anche economicamente sì e infatti uno dei motivi per cui anche i bilanci sono terribilmente difficili da mantenere è che i costi aumentano sempre di più devo dire che c'è anche una sempre più grande insoddisfazione da parte di molti cittadini su come vengono fatti certi servizi perché le tempistiche le modalità che si desiderano sono difficilmente gestibili ovvero diciamo che la formula si può fare tutto però bisogna avere bisogna avere le fonti economiche per poter pagare certi servizi devo dire che noi abbiamo avuto dei costi veramente importanti soprattutto legati a come è arrivata la neve perché voglio dire stupirsi che a Falcada arrivi la neve anche abbondante sì voglio dire sarebbe un po' banale dirlo in realtà abbiamo avuto delle nevicate abbastanza importanti nella quantità ma anche con tipologie di neve piuttosto difficili in certi momenti e c'era la necessità di liberarle di liberare strade e piazzali nel più breve tempo possibile quindi questo fa lievitare i costi abbiamo avuto dei costi notevoli come comune di Falcada e questo ha inciso molto sul bilancio conclusivo del 2020 ma poi nella proiezione dell'inverno come sarebbe andato anche nel 2021 quindi sì bella la neve bella in pista sulle strade poi è sempre una rogna tra l'altro voglio dire quando descrivevamo anche nel telegiornale le grandi nevicate Falcada era sempre tra i comuni in cui c'era anche un po' più di rischio per i tetti perché sì abbiamo una posizione che fa sì che le precipitazioni siano sempre piuttosto abbondanti e come detto anche all'inizio ci sono state nevicate con neve anche abbastanza pesante in certi momenti e poi ci sono state ricordiamoci anche delle giornate di pioggia in pieno inverno per cui la neve si è appesantita ulteriormente e ci sono stati alcuni interventi sì dei vigili del fuoco ringrazio anche perché sono intervenuti più volte nel comune di Falcada per liberare alcuni tetti più che altro il problema era forse la caduta della neve piuttosto che l'appesantimento delle coperture però insomma per fortuna devo dire che non ci sono stati inconvenienti particolarmente gravi per fortuna ecco questo è stato uno degli inverni più nevosi degli ultimi anni non è paragonabile sicuramente con la grande nevicata del 2014 penso che qualche differenza l'abbiate sentite anche voi accendevate la luce avendo avuto la fortuna di vivere anche quella emergenza devo dire che no però posso dire questo quando un inverno parte con nevicate importanti come quella che abbiamo avuto già all'inizio dell'inverno il pensiero va e dici ci ne manca ancora un bel po' prima di arrivare fuori dall'inverno perché se inizia a nevicare bene già a dicembre la preoccupazione poi arriva per gennaio per febbraio e per marzo perché siamo praticamente a primavera ma a Falcade arriva la neve anche alla fine di aprile quindi il pensiero c'è sempre comunque quindi partire con una stagione in cui già all'inizio di dicembre nevica in maniera importante ce l'abbiamo avuto tutto il pensiero di dire riparto un altro 2014 sarebbe stato nell'anno del covid un 2014 un inverno analogo a quello sarebbe stato veramente difficile nel 2014 la prima nevicata difficile e importante arrivò il 26 dicembre 2013 e io ricordo che finì di nevicare a fine di aprile nel senso finì di nevicare perché continuava ogni pochi giorni arrivava una nevicata era una situazione veramente pesante ecco speriamo quindi che non si verifichi di più un'emergenza di questo di questo genere perché il territorio non solo di Falcale ma di tutto il Bellunese in questi ultimi anni ha decisamente pagato il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato quindi salutiamo e ringraziamo il sinaco Costa grazie a voi buona serata buona serata buona continuazione grazie a tutti